Ben ritrovati Ottoliner, oggi siamo di nuovo con Giacomo Gabellini, analista geopolitico, autore, non ha neanche più bisogno di presentazioni, per andare a focalizzare gli ultimi fatti a livello internazionale che si sono verificati negli ultimi giorni. Partiamo dal confronto fra Donald Trump e Kamala Harris, un confronto che c'è stato un po' un tira e molla perché non era sicuro che si facesse, adesso Trump ha già detto che non ci sarà un secondo confronto. Quello che io ho notato sicuramente dopo la rinuncia di Biden c'è stata un po' una rimonta dei democratici, non so, ricordi li avevano dati per totalmente spacciati, dopo l'attentato a Trump i democratici avevano immediatamente perso la corsa alla Casa Bianca e hanno tirato l'asso nella manica, che non era altro che quello che era dipinto come un brutto natroccolo dell'amministrazione Trump. Kamala Harris, una donna di questo, ho detto, che non sa neanche parlare, che non capisce molto di politica internazionale, di cotte e di crude, però insomma evidentemente ci sono stati dei grossi investimenti da parte dei dem e dei media, è un po' al rimontato. Quindi io ti chiedo, ti chiedo questa risalita dei dem, se effettivamente riuscirà a tenere la Kamala Harris, riuscirà a tenere testa a Trump e in base al dibattito che c'è stato, chi è che ha avuto la meglio secondo te? Io mi chiedo anzitutto se sia reale questa risalita, perché sicuramente il problema è sempre quello, ci sia un'egemonia, mi verrebbe da dire, non so, culturale è un termine eccessivo, però diciamo che c'è un apparato mediatico di riferimento dei democratici che è soverchiante, ha una capacità di fuoco incommensurabile e offre una lettura degli eventi che ha in indubbia capacità di condizionamento sugli orientamenti dell'elettorato statunitense. Io poi sono sempre rimasto un po' perplesso dal fatto che la gente possa cambiare opinione a seconda di quello che si dice in un dibattito a un mese dalle elezioni, perché insensamente le variabili sono troppe, poi in questo caso di elezioni in elezione emergono nuove aggiunte, elementi aggiuntivi che rendono sempre più macchiettistico il tutto, perché questa volta c'erano i fact checker all'opera in tempo reale che passavano il vaglio alle dichiarazioni di tutti e due i candidati, evidenziando quelle che a loro parere erano fake news, imprecisioni e cose del genere. Abbiamo visto questi personaggi inquietanti già all'opera nei social media e vengono investiti di un potere direi abbastanza elevato, perché poi giustamente il mestiere di fact checker chi è che controlla i controllori viene sempre in mente, no? Questo vecchio adagio che però è sempre valido. direi che stanno diventando una specie di ministero della verità, i fact checker. Sì, sì, Orwell come sappiamo si sarebbe compiaciuto di vedere realizzati. Sono andati oltre Orwell, direi. Sì, decisamente. Il problema è che, come al solito, Trump se ne è uscito dicendo che benissimo, io ero tre contro uno perché tutto è stato distorto a favore di Kamala Harris, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il solito buttarla in cacciara, come siamo abituati ormai da un po' di tempo. Il punto è che io ricordo già il dibattito tra Trump e la Clinton, fu qualcosa di indecoroso per la pochezza degli argomenti portati, il fatto che si personalizzasse all'estremo la campagna elettorale e quindi si portasse l'accento sulle caratteristiche personali, individuali dell'uno o dell'altro candidato e non si parlasse dei problemi reali del paese. Nel momento in cui si toccavano invece questi argomenti, temi caldi, da cui dipende la vita di milioni di persone, lo si faceva in maniera veramente, a dir poco, superficiale. Trump ha detto che gli haitiani mangiano cani e gatti, queste uscite veramente allucinanti. ha detto che se fosse in realtà Kamala Harris in Israele sarebbe in pericolo addirittura. Questo è un altro dato interessante, insomma. Ma è stato ancora una volta un dibattito piuttosto povero di contenuti, ma ricco di animosità. E questo è un sintomo piuttosto evidente, secondo me, del fatto che veramente c'è qualcosa che distanzia, differenzia un candidato dall'altro. Cioè noi c'è stato sempre un riconoscimento di legittimità alla controparte nelle elezioni che si sono tenute, pensiamo, agli anni 90, dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Perché sostanzialmente erano due versioni, due letture, diciamo, con sfumature diverse dello stesso copione, in molti casi. Perché, parliamoci chiaro, i democratici e i repubblicani, in materia, diciamo, nei temi veramente caldi, negli interessi fondamentali del Paese, erano convergenti. Dove è che si è verificata una difformità, un interventismo in politica estera. Magari qualche, diciamo, qualche differenza in materia di politica economica, con i repubblicani che erano più favorevoli alla riduzione dello Stato minimo, insomma, la visione dello Stato minimo, mentre i democratici più favorevoli a un interventismo, diciamo, generalizzato. Ma gli interessi delle grandi lobby sono sempre rimasti tutelati, largamente tutelati, a prescindere da chi fosse la Casa Bianca, di chi venisse eletto al Congresso. Quindi cambia veramente poco. Il fatto che adesso ci sia un clima da guerra civile, fondamentalmente, secondo me, denota il fatto che ci sono dei programmi politici che portano, hanno delle differenze anche inconciliabili l'uno con l'altro. Io ne l'ho già detto, secondo me il fatto che più che Trump, che Trump abbia scelto, abbia imposto la nomina a D.J. D. Burns come suo vice, indica una serie di cose abbastanza precise. Per esempio, indica che c'è una volontà di rivitalizzare quella zona dell'area dei Grandi Laghi che è stata oggetto della deindustrializzazione da partire dagli anni 70. Cioè la Rust Belt, che è un'area molto popolosa, peraltro, degli Stati Uniti, quell'area macro-regione che va dall'Ohio, l'Indiana, il Michigan, l'Illinois, il Wisconsin, per arrivare poi anche alla Pennsylvania, nella parte più orientale del paese, insomma. Un'area che era ad altissimo livello di industrializzazione, che poi arriva sostanzialmente fino al Maryland, fino a Baltimore, dove c'erano le grandi acciaierie, e che adesso è disseminata di complessi produttivi dismessi, perché tutte le produzioni legate alla cosiddetta old economy sono state spostate in Messico, nel sud-est asiatico, in America Latina, insomma. Tutti questi elettori sono ritrovati privati di posti di lavoro numerosi, altamente remunerati, ben retribuiti, garantiti, posti di lavoro, come si direbbe adesso, di qualità, che sono stati invece rimpiazzati dalla cosiddetta gig economy, quell'economia degli espedienti fatta da fattorini, da persone che vengono assunte a tempo determinato, che lavorano nella grande distribuzione, nel contesto di questa economia terziarizzata, che si è venuta a creare negli Stati Uniti per effetto di scelte deliberate, che sono state assunte a partire per l'appunto dagli anni 70. Questo tipo di politica ha prodotto dei contraccolpi molto negativi in termini di proiezioni di potenza degli Stati Uniti, perché se tu rinunci all'industria, tutti privi di competenze che risultano decisive, hanno un impatto determinante anche nella capacità del Paese di tutelare la propria egemonia. perché quando il Pentagono nel 2018 emette un rapporto allarmatissimo in cui sottolinea che una percentuale compresa tra il 40 e l'85% delle componenti dei sistemi d'arma statunitensi viene da merci, da componenti importate dalla Cina, significa che la situazione è veramente compromessa. E quando si perdono, come dicevo, produzioni concrete, si perde anche dei segmenti della filiera produttiva che portano a un esaurimento, a un'evaporazione di competenze fondamentali. Questo spiega, per esempio, perché gli Stati Uniti spendono un cumulo di denaro impressionante in materia di difesa e non riescano, per esempio, a mettere a punto vettori personici, a differenza per esempio di Cina e Russia, che specialmente la Russia spende molto meno degli Stati Uniti. Qui ci sono delle strutture a cui occorre porre rimedio e bisogna indubbiamente, per mettere a ristradare il paese su un percorso di sostenibilità, anche in termini di debito, di capacità di crescita, eccetera, occorre riportare le produzioni sensibili, quelle critiche, quantomeno in patria. E qui probabilmente i piani sono, cioè qui ci sono delle visioni molto diverse, perché ormai anche una parte importante dei democratici ha sposato questa visione. Il problema è che ha cercato di portare a termine questo progetto attraverso un piano colossale di sussidi pubblici e sconti fiscali, l'Inflation Redaction Act, il CHIPS Act, che si sta rivelando ben poco efficace, perché si palleggeva su che c'erano delle valutazioni attorno al 40-45% dei progetti di maggiore impatto che erano stati approvati ai sensi di queste due leggi e sono fermi. Sono fermi la stessa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, cioè l'azienda che è leader mondiale nel settore dei semiconduttori di punta, che è stata obbligata a torto collo dagli Stati Uniti ad aprire un stabilimento in Arizona, si ha questo, darà agli Stati Uniti autosufficienza. No, non dà proprio niente, perché? Perché quell'azienda è abituata a lavorare in determinate condizioni, con determinata mano d'opera, con ingegneri che hanno un certo tipo di mentalità e che queste caratteristiche la TSMC non riesce a reperirle sul territorio statunitense, ha lamentato questo stato di cose. Quindi quello che dicevo, quando tu perdi competenze, poi queste competenze per essere ricostituite ci vogliono decenni. I Stati Uniti non hanno decenni per portare a termine questo processo. Peraltro Trump aveva provato nella sua prima amministrazione a devanire a questo scopo a furia di detassazioni, perché è stato quello il suo piano, che ha contribuito anche al dissesto dei conti pubblici statunitensi, ma il punto è che la Cina ha una struttura demografica e dei costi talmente irriproducibile all'estero che, nonostante l'elusing del cosiddetto Tax Cuts and Jobs Act approvato a Trump nel 2017, nessuna delle grandi aziende statunitensi ha rimpatriato le produzioni, perché tagliare i punti con la Cina è veramente, veramente difficile. Io credo che Trump e Vance abbiano preso atto di questo e stiano contemplando la possibilità di offrire alla Cina un mega accordo che dal commercio raggiunga anche la politica, una serie di questioni, Taiwan compresa, che comporti anche una revisione dell'approccio storicamente tenuto sino ad ora dagli Stati Uniti rispetto alla questione di Taiwan, in cambio di una buona disposizione della Cina rispetto alla fuoriuscita di alcune produzioni critiche, di alcune industrie di punta, fuoriuscita dalla Cina verso il territorio statunitense. Questo è un po' secondo me il disegno che Trump sta portando avanti, che è un disegno che chiaramente incontra delle ostilità fortissime. È paragonabile sotto certi aspetti a quello che Nixon e Kissinger fecero nei primi anni 70, quando si recarono a Pechino, aprirono Mao Zedong, posero le basi per l'integrazione della Cina nell'economia capitalista a guida statunitense e credo che il caso Watergate sia un po' figlio di questa scelta che Nixon ha assunto e di cui ben pochi contemporanei capirono il senso e la portata e le implicazioni. Quindi credo che anche per questo Trump sia veramente in viso, ma non tanto Trump. Trump è un personaggio che è stato individuato da una parte della classe dirigente che non condivide l'andazzo che ha preso il paese da un tempo a questa parte e che ritiene che grazie a serragliandosi dietro di lui si possano ottenere dei risultati in questo senso. Quindi da questo punto di vista credo che la battaglia sia veramente dirimente. Il fatto poi che entrambi i candidati per ottenere consensi strumentalizzano tutte le altre questioni dall'aborto all'immigrazione in maniera veramente spudorata e irresponsabile, questo concorre a riversare un'ulteriore benzina sul fuoco, su un braciere che continua a covare e che potrebbe infiammarsi da un momento all'altro. Purtroppo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, si stanno riproducendo delle fratture, si stanno riemergendo delle difformità, delle inconciliabilità che risalgono i tempi della guerra civile americana. Questo credo che sia la base di tutto. Sì, e a proposito del discorso che hai fatto tu, qualche giorno fa Trump ha fatto una dichiarazione che se non ti avessi intervistato per il Global South Day, in cui avevi fatto sostanzialmente una cosa del genere, sarei rimasta in qualche modo molto sgomenta, invece sono riuscita a capire la ragione per cui Trump ha annunciato che se avesse vinto le elezioni, se fosse diventato Presidente, avrebbe utilizzato molto meno le sanzioni, soprattutto contro Russia e Iran, perché le sanzioni danneggiano il dollaro, minano addirittura il primato del dollaro come moneta internazionale e dunque favoriscono la potenza cinese. Io ti chiedo di spiegare a noi comuni mortali, insomma, che siamo un po' persi su queste dinamiche. Come mai c'è questo giro di Boa addirittura da parte di Trump? Proprio mentre invece ieri si sono state annunciate ulteriori sanzioni da Blinken, mi pare, nei confronti dell'Iran, che addirittura prevedono la sospensione dei voli da parte di tre paesi. Quindi c'è proprio, come hai detto prima, due linee non semplicemente inconciliabili, ma che si contrappongono l'una con l'altra. Qui c'è in ballo veramente molto, perché il dollaro è la moneta di riferimento a livello internazionale dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Questo ha dato agli Stati Uniti un esorbitante privilegio, come lo definiva Jacques Ruef, il consigliere economico di Charles de Gaulle, perché lui Ruef parlava in epoca di Gold Exchange Standard, cioè fino al 1945 al 71, gli accordi di Bretton Woods, quando il dollaro ancora era convertibile in oro, 35 dollari per oncia, e poi tutte le altre valute erano ancorate al dollaro secondo rapporti di cambio fissi. Quindi in teoria chi avesse dollari in proprio possesso poteva, no in teoria in pratica, poteva recarsi presso gli uffici della Federal Reserve e chiedere la conversione, semplicemente. A seconda dell'oro che portava, a seconda dei dollari che portava, avrebbe ricevuto il corrispettivo in oro. Questo era il discorso. Se non che gli Stati Uniti hanno largamente abusato di questa posizione, pagando anche delle decisioni che da un punto di vista economico controproducenti, cioè il fatto di aver riposto le basi attraverso il piano Marshall, il suo corrispettivo giapponese, le basi per la ricostruzione dell'industria europea e giapponese, che poi nell'arco di pochi decenni sono rimesse in piedi, si sono rivelati ben più competitive di quella statunitense e quindi hanno la ripresa di questi due paesi, funzionale al contenimento dell'Unione Sovietica fondamentalmente, ha avuto un contracolpo economico devastante per gli Stati Uniti che poi di loro si sono impelegati nella guerra del Vietnam che ha letteralmente dissestato i conti pubblici e collestero statunitensi, i cosiddetti defici gemelli, defici di bilancio commerciale, defici di bilancio, sono cominciati a crescere e gli Stati Uniti sono passati in una posizione deficitaria, strutturale che si protrae ancora oggi. Al finire degli anni 60 la Francia aveva capito l'andazzo che gli Stati Uniti stavano emettendo dollari in misura di gran lunga superiore rispetto ai depositi in oro in loro possesso e quindi andò a vedere il blef degli Stati Uniti, inviò navi cariche di dollari presso la Federal Reserve per chiedere la conversione. Gli Stati Uniti di Nixon 15 agosto del 71 chiedono, impongono, annunciano unilateralmente la ripudio dell'accordo di Bretton Woods, cioè dicono che da questo momento il dollaro non è convertibile in oro per i non residenti. Attaccatevi, è stato questo un po' il discorso. E quindi cosa ne è del dollaro? Il dollaro diventa una moneta fiat, una valuta la cui quotazione sarebbe stata regolata dal rapporto tra domanda offerta alla stregua di qualsiasi altro merci. Non è andato esattamente così, perché di lì a pochissimo il venir meno del gancio fisso all'oro è stato rimpiazzato con un ancoraggio al petrolio. Cioè, nel 73 c'è la guerra delle Yom Kippur, gli stati arabi dell'OPEC annunciano l'embargo nei confronti di tutti i paesi che fossero disposti a sostenere Israele in quel conflitto, l'Europa si chiama fuori, si chiama fuori, ma questo provoca un rincaro di quattro volte, il 400% del prezzo del petrolio. E proprio in quel periodo Nixon, l'amministrazione Nixon, invia a Riyad il proprio segretario al Tesoro per imporre a Re Faisal una revisione dell'accordo che era stato siglato nel 45 tra Roosevelt e Ibn Al Saud. E cosa dice questo accordo, questa revisione? Dice se voi sauditi dovete continuare a commercializzare il vostro petrolio solo ed esclusivamente in dollari e riciclare parte considerevole delle vostre, dei proventi derivanti dalla vendita di petrolio nell'acquisto di sistemi d'arma statunitensi e in titoli di Stato statunitensi. Questo pone le basi per un processo poi di riciclaggio dei petrodollari, cioè questi dollari che l'Arabia Saudita ottiene dai paesi che devono industrializzarsi o che hanno bisogno del petrolio per continuare a produrre, a funzionare, li reinveste nell'acquisto di titoli di Stato statunitensi. Per gli Stati Uniti questa circolarità è la quadratura del cerchio sostanzialmente, i dollari che escono dalla porta rientrano dalla finestra e finanziano la spesa statunitense e pongono gli Stati Uniti nelle condizioni, diciamo, di comprare produzione reale in giro per il mondo in cambio di dollari che non richiedono alcuno sforzo per essere stampati. Semplicissimo da un certo punto di vista. Il problema è che tutto questo porta alla deindustrializzazione, è quello che dicevo. Quindi l'impatto lo vediamo oggi, lo vediamo con una posizione finanziaria netta negativa per 21 mila miliardi di dollari, lo vediamo con una bilancia commerciale in deficit cronico in quantità gigantesche, è una situazione che per qualsiasi altro paese al mondo sarebbe catastrofica, che può reggersi soltanto perché il dollaro è al centro del sistema, ancora oggi. Il problema è che questa centralità del dollaro che ha garantito agli Stati Uniti questi vantaggi di cui parlavo, è stata abusata da parte dei legislatori statunitensi che hanno militarizzato questo circuito. Nel corso degli anni hanno cominciato a ricorrere allo strumento sanzionatorio in maniera sempre più accentuata, esasperata, al punto tale che oggi la maggior parte dei paesi del mondo è sanzionata, è sottoposta a qualche forma di sanzione. Ma nel momento in cui tu quindi usi i circuiti che garantiscono la circolazione del dollaro come arma di politica estera per imporre agli altri paesi di adeguarsi ai tuoi dettami, tu li stai obbligando in un modo o nell'altro a cercare soluzioni alternative, che è esattamente quello che è accaduto. Già la situazione era critica fino diciamo al 2015, quando ancora il club dei sanzionati figuravano il Venezuela, l'Iran eccetera. L'Iran è un paese assai rilevante, ma tutto sommato la situazione è gestibile. Nel 2022 si è arrivato all'apoteosi con la confisca di 300 circa miliardi di dollari di riserve di valuta pregiata che la banca centrale russa deteneva presso istituzioni finanziarie occidentali, una manovra che pare sia stata suggerita da Draghi peraltro. E sostanzialmente il sequestro di beni riconoscibili a semplici cittadini russi, privati cittadini che non ricoprivano alcuni incarichi con il governo russo, e si va di bene che queste decisioni sono state prese unilateralmente senza consultare alcun paese del terzo mondo. Sono decisioni prese dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna fondamentalmente, con i loro addentellati, l'Australia eccetera, ma l'Africa, l'Asia, nessuno è stato consultato. L'idea qual era? Queste sanzioni metteranno in ginocchio la Russia. Questo non è accaduto per diversi motivi. Uno è la centralità che la Russia ha nel commercio internazionale, il fatto che per un numero crescente di paesi non sia semplicemente impossibile recidere i legami con la Russia e anche il fatto che molti paesi hanno detto io non siamo nemmeno stati interpellati, non vedo perché dobbiamo adeguarci alle vostre richieste. Non lo facciamo semplicemente. Ma non è che non l'hanno fatto soltanto i paesi del terzo mondo, non l'ha fatto nemmeno la Turchia, l'India, il Brasile, insomma, voglio dire, è una situazione abbastanza critica. In più queste decisioni, che impatto hanno avuto? Cioè hanno quello di rendere il resto del mondo edotto, i grandi miliardari, ma anche le banche centrali di tutto il mondo edotte del fatto che questi soldi che oggi investono in titoli di Stato statunitensi, ritengono le riserve aurea che magari alcuni paesi conservano presso la Federal Reserve di New York, oppure i soldi che investono presso la piazza finanziaria di Londra e non sono più garantiti. Perché a fronte di un semplice capriccio da parte degli Stati Uniti, di Londra, eccetera, questi soldi potrebbero essere congelati, bloccati, confiscati. E questo cosa ha portato? Ha portato a una fuoriuscita di capitali, per esempio, dal Regno Unito verso Dubai, che sta diventando una piazza finanziaria fondamentale, che sta portando soprattutto all'allestimento di una serie di infrastrutture monetarie, finanziarie, alternative a quelle controllate dall'Occidente. Questo processo ben inteso era già in atto, ma le implicazioni del conflitto russo-ucraino hanno fornito un'accelerazione forse nata da questo punto di vista. Si parla che adesso al vertice imminente ormai a Kazan dei BRICS qualcosa dovrebbe essere annunciato, cioè l'unificazione dei sistemi di pagamento nazionali tra i vari paesi dei BRICS. La Cina già ha messo appunto un sistema che si chiama Enbridge, cioè un sistema pilota, diciamo, che era stata un'idea che era stata patrocinata dalla Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, che connetteva le banche centrali, le valute digitali delle banche centrali di Thailandia, Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, adesso ha aderito anche l'Arabia Saudita, che dopo aver rifiutato di rinnovare l'accordo sul petrodollaro del 74, quello di cui parlavo prima, quello che Nixon aveva imposto a Refaizal, e hanno aderito a questo genere di infrastruttura. Che cosa consente? Consente di aspettare il commercio bilaterale tra i paesi che aderiscono a questa infrastruttura in maniera simultanea, cioè senza aspettare giorni, abbattendo i costi di transazione, che non coinvolgendo quindi il sistema bancario occidentale, non coinvolgendo il dollaro. Quindi questo è un problema. Ma poi ne vogliamo citare un altro. Se si guarda, per esempio, come ho detto, gli Stati Uniti hanno una posizione finanziaria netta, negativa, per 21 mila miliardi di dollari, e ogni mese immettono sul mercato centinaia di miliardi di dollari di titoli di Stato, che fino a non molto tempo fa venivano acquistati prevalentemente dalle banche centrali stranieri, a partire da quelle asiatiche. Uno studio dell'ufficio del congresso preposto a queste materie ha appurato che oltre il 44-45% dei titoli di Stato emessi dagli Stati Uniti fossero nella disponibilità delle banche centrali straniere. Questa percentuale era scesa nel 2019 alla vigilia del Covid al 43-44% e adesso siamo al 32-33%. E se si guarda, per esempio, chi sono i detentori principali detentori di titoli di Stato statunitensi, fino a non molto tempo fa il principale era la Repubblica Popolare Cinese. C'era l'Indonesia, c'erano un sacco anche di paesi asiatici, paesi dell'America Latina. Se si guarda adesso, sono tutti alleati geopolitici degli Stati Uniti. Quindi sono la Gran Bretagna, l'Irlanda, il Giappone. Il Giappone è il principale detentore di titoli di Stato statunitensi. E quindi noi abbiamo visto che la Repubblica Popolare Cinese, da ormai diversi anni a questa parte, sta non soltanto limitandosi a rinnovare i titoli in scadenza, i titoli statunitensi in scadenza, ma ha cominciato a venderne mese per mese, riducendo costantemente la propria esposizione nei titoli di Stato statunitensi. Questo è un dato importante. E così come la Russia aveva già liquidato dopo il 2014 tutte le proprie posizioni in proposito. Ma l'Asia in generale sta facendo questo processo. Se si guarda le detenzioni dei titoli di Stato statunitensi in mano alle banche centrali straniere, si vede che queste sono sostanzialmente stagnanti, ma a fronte però di emissioni che sono quadruplicate dal 2008 ad oggi e nonostante nel frattempo la Federal Reserve abbia alzato in maniera considerevole i tassi di interesse. Quando alzi i tassi di interesse si produce un effetto automatico, i titoli di Stato si riducono di valore e cresce la loro redditività. Quindi diventano maggiormente appetibili. Nonostante questo, le banche centrali hanno preferito approvvigionarsi di oro. Hanno fatto incetta letteralmente di oro. Questo la Cina, la Russia, tantissimi paesi. E quindi a cosa assistiamo? Assistiamo che la posizione dominante che prima era detenuta dalle banche centrali stranieri nella detenzione dei titoli di Stato statunitensi sta diminuendo e sta cominciando invece a farsi strada investitori istituzionali, cioè i grandi fondi, le grandi banche, questi investitori privati che si comparano titoli di Stato statunitensi in una fase però in cui i tassi di interesse sono alti. Cioè per loro è altamente remunerativo comprare titoli di Stato. Ma quando per gli Stati Uniti non è ininfluente tenere i tassi di interesse alti, perché cosa fa? Fa letteralmente esplodere la spesa per interessi. Se si guarda attualmente la spesa per interessi sul debito degli Stati Uniti, sta letteralmente esplodendo, ha superato il budget del Pentagono. È una cosa veramente allucinante. Quindi ci sarebbe la necessità di abbassare i tassi di interesse. Ma se abbassi i tassi di interesse, la remuneratività, il livello di remuneratività di questi titoli di Stato scende. E i grandi fondi, il cui unico interesse è far soldi, immaginare più guadagni possibile nel minor tempo possibile, questi sono indotti automaticamente a disfarsi di questi titoli. E a quel punto chi li comprerebbe? Insomma questa è la questione che Trump ha messo in luce. Lui stesso che ha abusato, è stato uno dei principali artifici delle sanzioni. L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni a chiunque, ma hanno prodotto questo effetto e Trump adesso ne sta prendendo atto. Sarebbe un po' corretto da parte sua anche a fare un mea culpa, cioè a riconoscere di aver sbagliato su questo prangente, non attribuire tutte le colpe a Biden, che nonostante questo, però, questo va detto, con Biden c'è stato un salto di qualità. Perché finché tu imponi sanzioni all'Iran, al Venezuela, ci può stare. Quando tu confischi 300 miliardi di dollari della banca centrale russa, cioè che è il paese geograficamente più grande del mondo, una potenza nucleare, tu stai cambiando le regole del gioco. Lì hanno veramente passato il limite e probabilmente la situazione adesso, secondo me, è difficilmente reversibile. Trump ha segnalato, ha agitato un campanello d'allarme che dovrebbe essere preso in maggiore considerazione un po' da tutti, secondo me. Hai toccato il punto, perché mentre parlavi io pensavo, sì, Trump magari limiterà l'utilizzo delle sanzioni, ma a questo punto sarà sufficiente limitare l'utilizzo delle sanzioni se già il debito pubblico è nelle mani dei grandi fondi. Quindi stiamo capendo che anche qualora dovesse vincere Trump la situazione resterebbe abbastanza critica, ma se dovessero vincere i democratici, mi pare che insomma questa opzione sia di nuovo in corsa, quale sarebbe invece la loro strategia nei confronti di questa problematica? Dunque, io credo che anche nonostante Trump abbia dichiarato queste cose, poi in realtà anche qualora dovesse essere eletto, non sono tra coloro che credono che il Presidente sia una sorta di monarca, non ha il potere di porre e disporre a proprio piacimento, deve scendere a compromessi continuamente e quindi la capacità del Congresso, degli altri centri di potere, insomma, di condizionare l'operato della Casa Bianca è sempre piuttosto ampio, quindi non credo proprio che rimuoverebbe le sanzioni alla Russia o all'Iran, magari qualcosina potrebbe cambiare, ma non troppo secondo me, e dal punto di vista democratici è ovvio che non possono accedere su questo frangente. Cioè, la Russia ormai per i democratici è diventato un chiodo fisso, cioè come diceva Emmanuel Todd, un libro che è stato pubblicato all'inizio del 2024, libro bellissimo peraltro, diceva una cosa molto chiara. Beh, scusa, dici il titolo, così lo compro subito. Verrà tradotto, deve uscire fra due settimane, fra dieci giorni in Italia, la sconfitta dell'Occidente, ve l'ha detto da Fazzi, era uscito in Francia nel gennaio del 2024, la difesa dell'Ossidan, in cui lui scriveva una cosa molto semplice, diceva la questione ucraina per gli Stati Uniti non era una questione esistenziale, è tutt'altro, però i democratici in omaggio a una visione del mondo che secondo me deve molto alle idee di Zbigniew Brzezinski, è rimasta ancora l'idea comunque di frammentare la Russia. Questo è un sogno e nei primi anni 90 sembrò che questo procedimento potesse veramente arrivare a compimento, l'opera di saccheggio delle ricchezze nazionali russi era già ben avviata, insomma, poi è arrivato Putin e il processo si è interrotto, come sappiamo, e l'autorità dello Stato è stata ricostruita, insomma. Ci stanno riprovando, ci hanno riprovato, e l'idea qual era? Che è emersa molto chiaramente quando si profilò la possibilità che Putin e Zelensky firmassero una pace a Istanbul. Boris Johnson va a Kiev e dice a Zelensky sostanzialmente no, nessuna pace. Perché? Perché la combinazione tra le sanzioni che noi abbiamo imposto, la pressione politica militare sulla Russia, il fatto che l'attivismo diplomatico in giro per il mondo, che obbligherà, porterà in un modo o nell'altro quasi tutti i paesi del mondo ad aderire le sanzioni, in più la vostra carne da cannone, i vostri soldati, la vostra determinazione, la vostra capacità di combattere, la vostra conoscenza del nemico russo, porrà voi nelle condizioni di recuperare i territori che avete perso e noi nelle condizioni di infliggere alla Russia una sconfitta strategica che ponga le basi potenzialmente per una destabilizzazione interna del paese e perché no per una ripresa, rivitalizzazione delle spinte centrifughe in aree come il Caucaso per esempio, che poi portino alla balcanizzazione del paese propedeutica alla sua colonizzazione economica. Questo era il disegno. Questo è completamente fallito. Il problema è che gli Stati Uniti hanno impiegato tutto il loro capitale politico, gli Stati Uniti e l'Europa hanno impiegato tutto il proprio capitale politico, politico, economico, la loro deterrenza, la loro immagine di invulnerabilità, di potenza. Hanno messo sul piatto tutto ciò che avevano per sconfiggere la Russia e non ci sono riusciti. Il resto del mondo vede correttamente come la Russia stia tenendo testa da un punto di vista militare, politico, economico, alla NATO nel suo complesso e questo ha delle ripercussioni più o meno indirette. Il fatto che dal Sudan al Golfo di Guinea si sia verificata una catena di colpi di Stato che si è incominati con l'ascesa al potere di giunte militari che la prima cosa che hanno fatto è stato cacciare i francesi, gli statunitensi, tenere gli italiani in un caso in Niger, questo è un dato interessante, hanno accettato di mantenere il contingente italiano, e poi siglare accordi di sicurezza, di commercio, energia con Russia e Cina è un collegamento piuttosto diretto tra le due cose, è un collegamento piuttosto diretto il fatto che l'India abbia moltiplicato per 33 volte il volume delle importazioni di petrolio dalla Russia dopo il 24 febbraio del 2022, è un dato di fatto che la Turchia abbia avanzato richiesta di adesioni ai BRICS e abbia espresso interessamento per aderire addirittura la Shanghai Cooperation Organization che è un'organizzazione di sicurezza quindi ha un risvolto militare aperto, la Turchia fa parte della Nato dal 1952 la Turchia ha il Tark Stream, cioè ha un gasdotto con la Russia che la rifornisce di gas naturale a basso costo che la Turchia sta utilizzando per imporsi come grande produttore d'acciaio, per esempio ha sorpassato la Germania da tempo, dato anche questo di cui tener conto insomma come diceva Fukuyama in intervista politica un po' fa diceva guardate che qui c'è un numero crescente di paesi che guarda con attenzione a quello che succede sul campo di battaglia ucraina Contrariamente a quanto scriva nel 91, si è data una svegliata Eh beh direi, meglio tardi che mai, guarda con attenzione a quello che accade sul campo di battaglia ucraina e quanto più la Russia erode, ottiene vantaggi, consolida le proprie posizioni, tanti più paesi sono incentivati ad adottare una posizione favorevole alla Russia La Georgia ne è un esempio, la Georgia è stata oggetto di pressioni fortissime fin dall'inizio del conflitto ucraino, anche da prima, affinché adottasse una postura più prosto precisa nei confronti della Russia ma finora la Georgia ha resistito E quindi è questo, l'Iran, la Russia che sigla una partnership strategica con la Corea del Nord e poi si appone le basi per fare la stessa cosa con l'Iran Insomma c'è un cosetto sud globale che si sta orientando in una direzione tutt'altro che favorevole l'Occidente in una fase in cui l'Occidente per sua volontà per ora la causa del reshoring, quindi cerca di riportare le produzioni sul proprio territorio e il frenchoring, il frenchoring cos'è? Cioè non solo riportare le produzioni in patria ma anche allestire catene d'approvvigionamento che facciano perno su paesi alleati degli Stati Uniti, quindi insomma la situazione è un po' complessa se si considera che i BRICS hanno praticamente tutte le materie prime e l'Africa che è veramente la principale posta in gioco da questo punto di vista sta slittando piuttosto apertamente in una direzione non così favorevole agli occidentali, quindi gli Stati Uniti c'è da aspettarci che comunque i democratici che hanno perso questa guerra ha inflitto un danno di credibilità all'Occidente gigantesco e devono ottenere, devono continuare su questa strada per poter dire, per poter affermare un giorno che gli sforzi sono stati enormi ma hanno prodotto risultati sperati, devono affermarlo quindi tutto questo ha una serie di implicazioni, la guerra ucraina dovrà continuare, tornerà fuori il discorso di Petreus, del generale Petreus che parlava di coalizione dei volenterosi non la Nato, la Nato non deve intervenire perché dopo se deve intervenire la Nato dobbiamo entrare in gioco anche noi, quindi perché dovremmo entrare in gioco noi quando ancora ci sono i baltici, ci sono i polacchi, ci sono i cechi, gli slovacchi, i tedeschi, gli italiani fino ad arrivare agli spagnoli, poi i portoghesi che sono quelli più occidente e poi dopo quel punto magari potremmo anche dire che tutto sommato può bastare così, ma come ha detto Lavrov, gli Stati Uniti si farebbero bene ad abbandonare l'idea che una terza guerra mondiale rimanga confinata all'Europa, loro non rimarebbero assolutamente, il loro territorio non rimarebbe mai violato e quando dico il loro territorio non mi riferisco alle loro basi militari che hanno in giro per il mondo o in Europa o nel sud est asiatico o in Medio Oriente, verrebbe che il più colpito è anche il territorio statunitense, la Russia ha dei sottomarini in navigazione costante che hanno delle armi personiche, gli avant-garde per esempio, che hanno una potenza distruttiva spaventosa che la costa occidentale degli Stati Uniti verrebbe fatta fuori con uno strike di quel tipo, sono scenari apocalittici ma il fatto stesso che gli Stati Uniti continuano a rimanere ancorati a questa idea per cui promuoviamo, diamo fuoco alle polvere, riversiamo benzina continuamente sul fuoco perché tanto noi abbiamo i due oceani che ci proteggono è un'idea che è completamente sorpassata in epoca di missili personici, di missili intercontinentali. Già il discorso delle portaerei comincia a essere, cioè il fatto che l'immagine della potenza, dell'onnipotenza statunitense di cui la portaerei è l'emblema, ebbene la portaerei vista lo sviluppo che c'è stato per quanto concerne la missilistica e la portaerei hanno un potere molto più ridimensionato rispetto al passato. Quindi c'è tutto, molti dei pilastri su cui si eseggeva la leggemonia o la presunta, il presunto predominio militare statunitense sul mondo, mi riferisco a questi ultimi periodi, sono in discussione e non credo che ci sia molti all'interno degli Stati Uniti che questa cosa la comprendano. Coloro che lo sottolineano con insistenza costante come il colono Lennaro d'Alacus McGregor vengono tenuti i margini. Questo è un esempio tipico da impero in declino. Sì, il problema degli Stati Uniti probabilmente è che non riescono ad osservare quella potenza che ritengono nemica da un punto di vista che non sia il loro ancorato a determinati pregiudizi legati al passato. A me sembra che abbiano sbagliato tutto perché hanno basato la guerra in Ucraina sui presupposti completamente sbagliati, a partire da quello che le sanzioni avrebbero rovesciato il regime di Putin. Era ovvio a qualsiasi persona che avesse parlato una volta con un russo in vita sua, conoscendo lo spirito russo, non avrebbero fatto altro che concentrare, unire tutta la popolazione attorno a Putin. Cosa che è successa? Quindi in barba alle varie dichiarazioni di Draghi e della von der Leyen, la Russia non solo non è caduta in tre mesi, ma le sanzioni si sono rivelate, un boomerang nei confronti dell'Occidente. Per un paio di anni hanno diffuso la narrazione secondo la quale chi sosteneva che le nazioni fossero un boomerang non era altro che un propagandista di Kiev. Adesso mi pare che con il report pubblicato da Draghi nei giorni scorsi abbiamo capito chi era il propagandista e chi era invece la Cassandra che dava inutilmente l'allarme. Però per tornare un po' a quella che mi sembra essere il quadro di disperazione dell'Occidente, stiamo vedendo che, insomma, quanto pare, secondo quello che dice il Guardian, ma secondo quello che capirebbe qualsiasi osservatore che ha seguito le dinamiche degli ultimi giorni, dal siluramento di Guleba, l'incontro tra Graham e Zelensky a Roma, a Roma scusa, a Cernobbio, alle varie dichiarazioni che ci sono state nelle ultime 48 ore, non ultimo l'incontro di Blinken a Kiev, assieme anche al capo della diplomazia britannica, appunto sembra ormai sicuro che verrà concessa, o meglio, già l'autorizzazione per l'utilizzo delle armi a lunga gittata Nato fornite a Kiev in territorio russo è stata concessa, si starebbero definendo le condizioni del loro utilizzo, quindi in questi giorni questi passi che abbiamo visto ultimamente corrispondono a questi negoziati per definire i limiti di questo utilizzo, quindi quali obiettivi potrebbero essere, possono essere colpiti e quali no, ammesso che poi Kiev rispetti questi limiti, a che punto siamo della guerra? A me sembra che siamo al passo poco prima di inviare uomini, chiaramente tutto poi dipenderà dalla risposta che darà la Russia. Diciamo che la situazione sul campo di battaglia è piuttosto chiara, cioè la Russia sta avanzando un po' lungo tutta la linea del fronte, quando gli ucraini che hanno la coperta chiaramente corta, hanno una penuria di mezzi, di uomini ormai drammatica, quindi ogni volta che devono correre in un settore e concentrare forze per tamponare un'avanzata russa, ecco che i russi spostano immediatamente la pressione su un altro settore del fronte e quindi da qualche parte devono costantemente spostare forze, questo è estenuante, soprattutto non porta dei risultati e l'operazione su Kursk che probabilmente aveva uno scopo di due scopi probabilmente, uno di pubbliche relazioni, cioè far vedere che l'Ucraina ancora è viva in grado di infliggere del dolore alla Russia, di fare del male alla Russia e quindi vale la pena di continuare a sostenerla eccetera eccetera e l'altro era il fatto che comunque questi attacchi in Russia, cooperazioni a Kursk, quindi occupare territorio russo e magari simultaneamente colpire con Storm Shadow vatakus missili a 300 km di gittata, più o meno, quindi attacchi in profondità, in realtà profondità relativa, comunque hanno un effetto di alimentare malcontento in seno alla popolazione russa e questa secondo me era la speranza, porterà un allentamento della coesione interna che si è raggiunta all'interno della federazione russa perché ormai siccome la guerra sul campo di battaglia non si può vincere, l'unica cosa che si può fare è destabilizzare il nemico dall'interno, indurlo a commettere delle mosse sbagliate, delle mosse suicide, mosse che possano invece portare acqua al mulino di chi è in una condizione di svantaggio, nella fattispecie se tu colpisci con uno Storm Shadow un edificio a Belgorod per esempio, un edificio civile, fai strage di 30-40 persone, probabilmente la Russia reagirà in maniera durissima e questa reazione è durissima, questa ancora una volta è la speranza, potrebbe essere additata a caso sbelli, utile per trascinare questa coalizione di volenterosi nel conflitto, questa è l'unica carta a giocare che ha l'Ucraina. E probabilmente Zelensky si rende conto che, forse se ne è sempre reso conto, ma poi lì sappiamo che le dinamiche interne a quel paese sono sempre un po' particolari, Zelensky era stato eletto su una piattaforma di pace, voleva raggiungere un accordo con i ribelli del Donbass e quindi anche con la Russia, con i russofoni in generale, e poi che vanno andato al fronte, appena eletto presidente, abbiamo visto che c'erano quelli dei battaglioni neocantiani che avevano, insomma, avevano detto sostanzialmente se tu credi che noi ce ne andremo da qua non hai capito niente, quindi l'autorità di questo personaggio era fortemente ridotta. Ha capito probabilmente che era tirava in quel momento Zelensky e adesso si è fatto utile strumento di questi interessi stranieri, che nella fattispecie, allo stato attuale ormai, consistono nel far in modo che l'Ucraina non crolli, prima delle edizioni del 5 novembre, fondamentalmente, perché arrivare alle elezioni con una sconfitta sul campo di battaglia, perché parliamoci chiaro, noi possiamo ripeterci quante volte vogliamo che questa sia una sconfitta dell'Ucraina, ma visto tutto l'impegno che l'Occidente ha propuso, le risorse, i beni, il capitale politico, eccetera, questa sarebbe una sconfitta di tutto l'Occidente. Gli stessi Stati Uniti farebbero veramente fatica a presentarla non soltanto all'opinione pubblica mondiale, ma anche alla propria popolazione, ai propri abitanti, a venderla come una sconfitta dell'Ucraina e magari attribuirla alle inefficienze dei comandanti e dei soldati ucraini, perché ormai stiamo cominciando a vedere anche questo. Quindi questa credo che sia la logica, la logica dell'escalation, cercare di compensare alla mancanza di risultati sul campo, per usare un neofemismo mancanza di risultati, sul campo di battaglia con un innalzamento costante del tenore degli attacchi, dello scontro, che porta a forti, privi di lucidità, la leadership del nemico. Questa è secondo me la logica nelle cose attualmente. Poi però c'è qualche qualche contraccolpo si subisce, tipo a Poltava quando un missile Iskander ha colpito un'accademia militare facendo fuori non so quante decine o centinaia di soldati in formazione e dei loro istruttori, tra cui a quanto pare svedesi. Svedesi e questo credo forse contribuisca a spiegare anche le dimissioni che sono state presentate dal ministro degli esteri svedese proprio in questi giorni, un giorno o due giorni dopo l'attacco russo a Poltava, all'accademia militare di Poltava, dimissioni che non sono state, la cui motivazione non è stata resa nota e che non sono semplicemente dimissioni da ministro degli esteri. Tobias Bilstrom non si è soltanto dimesso da ministro degli esteri, ma si è dimesso da parlamentare e si è ritirato dalla vita politica. Quindi è tornato completamente soltanto alla sua vita da privato cittadino. Insomma, bisognerebbe spiegare cosa c'è in ballo e qualcuno ipotizza, per esempio, visto che la Svezia in passato ha fornito in quell'accademia militare si formavano dei quali soldati, dei militari specialisti in guerra elettronica e che visto che la Svezia in passato ha fornito due aerei, diciamo, stealth, che servivano a due aerei radar, che erano molto sofisticati e di cui gli ucraini naturalmente non avevano le capacità di pilotaggio e la presenza di istruttori svedesi in quella sede era possibile. Gli svedesi hanno smettito perché così si fa, nessuno ammette di aver perduto degli istruttori la cui presenza lì non è proprio una questione di secondo ordine. Poi naturalmente ci sono dei riflessi storici, Poltava è stata la battaglia che nel 1709 ha tra l'impero russo e l'impero svedese di Carlo XII che ha posto fine sostanzialmente alle ambizioni imperiali della Svezia. La Svezia da quel momento ha cessato di essere un impero e gli svedesi questa cosa si è stratificata nella loro identità nazionale che si è tradotta in un senso fortissimo di rivalsa verso la Russia che è visibile ancora oggi. Quindi mi pare che la logica di questa escalation sia quella che dicevo, ma di qui a credere che ci sia tutta questa gran voglia da parte della coalizione di Volenterosi di intervenire io la vedo dura. Un conto è che qualche politico continui ad agitarsi e a dare come Macron tempo fa a parlare, a urlare, ma a credere che ci siano centinaia di migliaia di europei disposti a spendersi in un conflitto ad altissima intensità come non se ne vedeva dai tempi della guerra di Corea. Ricordiamo a Bakhmut, quando la quantità di Bakhmut fin dal tritta carne, il tempo di sopravvivenza medio di una recluta era di 4 ore. Io la vedo veramente dura per un popolo poi europeo che sappiamo che non è che proprio incline a spendersi in prima persona per cose del genere, andare a combattere in Ucraina perché te lo dice Borrell, perché te lo dice la Von der Leyen, la vedo un po' difficile. Sembra più un'autoconvinzione delle élite europee, non possiamo neanche più chiamarli gruppi dirigenti perché hanno formato una nuova sorta di aristocrazia europea a mio avviso. Però a proposito dei paesi volenterosi, quindi della Polonia, ho notato un certo cambiamento, avevo accennato alle dimissioni di Culeba che sono arrivate sì la stessa sera della strage di Polsava, però anche il giorno dopo, due giorni dopo di un imbarazzante incontro in Polonia in cui aveva in qualche modo rivendicato una parte di territorio polacco come ucraino. Però insomma la Polonia in queste ultime settimane è stata al centro dell'attenzione per la questione del sabotaggio di Streamyard perché avrebbe dato ospitalità, anche protezione a uno degli attentatori nonostante le richieste della Germania di consegnarlo all'autorità tedesca. C'è stato un battibecco fra Scholz e Tusk, ricordiamo che Tusk non solo è il primo ministro di una coalizione che è considerata come burattini della Germania ma lui stesso è di origine tedesca e Tusk ha risposto a Scholz dicendogli che a questo punto chi ha in qualche modo è stato coinvolto nella progettazione di Nord Stream 1 e Nord Stream 2 dovrebbe soltanto vergognarsi e chiedere scusa. Quindi un incidente diplomatico possiamo definirlo. Fatto sta che l'ultima notizia che mi ha fatto un po' sorridere è stata la rinuncia di entrambi a recarsi alle cerimonie di un premio per la libertà di espressione che per inciso è stato anche assegnato al presidente del Kosovo, insomma uno stato che è emblema della democrazia, è stato assegnato a Tusk dal presidente del Kosovo e Contemporaneamente sia Tusk che Scholz hanno rinunciato alla loro presenza senza dare spiegazioni chiaramente e soprattutto non si sa che è che ha rinunciato per primo. Quindi c'è un livello di diplomazia da terza media, più o meno, terza media, primo liceo. Però insomma stiamo vedendo che la Germania a me sembra che stia un po' cambiando la sua attitudine, forse anche in conseguenza della vittoria dell'FD. Volevo sapere se anche tu hai notato questa impressione diciamo nei rapporti della Germania sia con la Polonia ma anche con il resto dell'Europa in conseguenza del sabotaggio di Nord Stream. Io credo che qui c'è un elefante nella stanza grosso come una casa che è quello che Seymourerci aveva scritto tempo fa. Seymourerci aveva scritto basandosi sulle sue note fonti all'interno degli apparati statunitensi che il sabotaggio di uno stream era opera dei norvegesi e degli statunitensi, il piano era stato elaborato dagli Stati Uniti, magari i polacchi hanno avuto una qualche forma di coinvolgimento. Ma pensare che sia il polacco con l'ucraino a fare una cosa del genere è veramente un insulto all'intelligenza umana secondo me. Ci vogliono capacità operativa, pianificazione che insomma non sono di appannaggio esattamente di chiunque. Quindi intanto questo. Ma soprattutto è chiaro che quel gasdotto non è mai stato gradito da nessuno in ambito atlantista. Naturalmente due gasdotti che vengono concepiti con l'idea di saltare a pie pari tutti i paesi dell'Europa che si frappongono tra la Russia e la Germania perché giudicati inaffidabili perché oggettivamente lo sono stati. L'Ucraina per tempo ha spillato le proprie indebitamente le forniture di gas che erano destinate all'Europa per se stessa. C'è stato anche un periodo nel 2006 che ci fu il blocco della chiusura del gasdotto proprio perché da parte dei russi che proprio per un contenzioso con l'Ucraina che aveva questa simpatica attitudine. Quindi lo stream nasce sotto i classici tedeschi che quando ci sono in mezzo ai loro interessi non guardano in faccia a nessuno e costruiscono questo gasdotto per loro vantaggiosissimo. Non solo perché gli rifornisce, copre circa metà del loro fabbisogno energetico, insomma non è esattamente Bruscolini, ma li pone anche in una condizione di fungere da redistributori, da hub del gas russo all'interno dell'Europa, l'Europa settentrionale fondamentalmente. Questo quindi è una... se non che questo progetto non è mai stato gradito agli Stati Uniti e non è stato mai gradito dalla Polonia che si è vista così tagliata fuori da qualsiasi rotta e la Polonia ha covato un senso di rivalsa e come lo ha fatto? Trasformandosi gradualmente una testa di ponte degli Stati Uniti in Europa, con i fratelli Kaczynski soprattutto, ricordiamo, avevano addirittura proposto a Donald Trump di installare una base militare statunitense con armi nucleari in territorio polacco di cui i polacchi avrebbero addirittura coperto i costi. Questa era un po' l'idea. Quindi insomma personaggi un po' così mi verrebbe da dire. E poi quando c'è stato il giorno del sabotaggio del Nord Stream, il giorno dopo, il giorno stesso non mi ricordo, Sikorsky che è l'attuale ministro degli Esteri polacco all'epoca pubblicò un tweet. Poche ore dopo, forse immediatamente dopo. Immagine del gas che fuoriusciva dall'acqua del baltico, thank you USA. Sì, insomma, niente male. Tra l'altro Giacomo Sikorsky era anche quello che doveva fare da garante Yanukovic a fine febbraio del 2014. E in più, proprio quel giorno, viene inaugurato il gasdotto che dalla Norvegia porta gas verso la Polonia. Quindi insomma tutta questa simultaneità mi pare un po' significativa. Un po' sospetta, diciamo. Poi nei tempi precedenti, mi pare intorno al 2011-2012, quando è entrato in funzione il nostro Immuno, i polacchi avevano parlato di patto morto vor Ribbentrop 2.0 addirittura. Questo è il sentimento, la sensazione. Naturalmente i tedeschi, come sempre, sì, fanno i loro interessi, però non guardano mai, hanno un culto di se stessi abbastanza pronunciato e quindi non si curano delle conseguenze di ciò che fanno. I polacchi, letteralmente, avendo coltivato questa relazione speciale con gli Stati Uniti e la loro vicinanza geografica alla Russia favorisce quella loro opposizione, adesso hanno centralmente messo nel sacco i tedeschi. Noi abbiamo visto i polacchi più volte umiliare i tedeschi, i tedeschi si ritrovano in una posizione, diciamo, di debolezza, di incapacità di rispondere, sebbene la Polonia sia una delle aree che ha beneficiato maggiormente dell'integrazione nella catena del valore tedesco. Noi sappiamo che la Polonia tutt'oggi ha la sua moneta nazionale, lo Zloti, fa parte dell'Unione Europea ma non dell'area Euro. E quindi questo ha portato la Germania a delocalizzare alcune produzioni importanti in Polonia, che poi vengono reimportate in Germania, giocando anche sul potere d'acquisto dell'Euro sullo Zloti, e poi vengono assemblate in Germania e riesportate. Questo è un po' quello che fa la Germania da tempo, trasformato tutta l'Europa centro-orientale nella sua periferia fordista. Però la Polonia adesso fustica costantemente la Germania, porta avanti un programma di riarmo del tutto separato da quello europeo che era stato concordato, compra sistemi dalla Corea del Sud, i K2 per esempio, i Petriot statunitensi, si ne compra in misura considerevole, spende più del 4% del PIL in difesa. Quindi è l'allievo prediletto degli Stati Uniti e la Germania si ritrova in questa condizione. Naturalmente in questo contesto i partiti tradizionali arrancano, perché sono i responsabili di questa situazione oggettivamente. Quindi chiunque si collochi su posizioni critiche rispetto alla condotta dei partiti tradizionali, che sono frequentemente l'SDU, l'SPD, i Liberali, i Verdi, che sono il partito più ignobile che la storia ricordi da decenni a questa parte, naturalmente ottiene voti, il blocco Sarah Wagenknecht da un verso e l'Alternative Food Deutschland dall'altro, che in una serie di questioni hanno programmi che non dico sono sovrapponibili, ma insomma presentano numerosi punti di contatto. La critica nei confronti della politica estera, della guerra in Ucraina soprattutto, del posizionamento della Germania, la critica rispetto alle politiche migratorie che sono state portate avanti fino ad ora, non sono questioni di poco conto. Le implicazioni del conflitto russo-ucraino per la Germania sono rivelati devastanti. La Germania sta inanellando una serie di cali della produzione industriale molto preoccupanti, sta minando pericolosissimamente la sua posizione commerciale in Cina. La Germania ha puntato tantissimo sul rapporto privilegiato con la Cina in termini commerciali. poi Robert Habeck, Ministro delle Finanze, va in Cina e comincia a fare il predicozzo agli esponenti di Pechino perché voi avete stancato di sostenere la Russia, questo è inaccettabile, eccetera, eccetera. La volta dopo, Scholz va in viaggio e in visita in Cina e viene accolto dal sindaco di Chongqing. Questo è il risultato. Non c'è lo straccio di un ministro cinese che si sia recato ad accogliere Scholz. I cinesi sono molto attenti a questo genere di messaggi. Quindi mi pare che sia evidente che c'è forte risentimento popolare nei confronti di questa deriva e come accade anche in Italia e anche in Francia, le fasce popolari che ancora comunque si barcaminano, hanno un relativo benessere, rimangono avvinghiati ai partiti tradizionali, ma quelli che hanno cominciato a subire i controcolpi, le aziende che chiudono, la BMW che sposta gli stabilimenti, la Basf, la Siemens, la Volkswagen che delocalizzano. che annunciano tagli ai posti di lavoro, che preannunciano la possibilità di chiudere stabilimenti in Germania perché i costi enerziatici sono troppo alti. Insomma, hanno chiaramente, forse per loro, riaprirebbero, penso, il nostro in due domani. Sì, sembra, diciamo, l'atto finale questo di un processo che sta portando la Germania all'esasperazione. e sappiamo che se la Germania viene umiliata, poi non andrà bene per l'Europa in generale. Io mi fermo qui. Poi magari la prossima volta andiamo a focalizzare meglio questa situazione in Europa, il ruolo della Germania magari, e cosa potrà accadere continuando di questo passo. Io per il momento ti ringrazio per la tua disponibilità. Siamo stati più di un'ora a martellarti di domande. Hai fatto veramente delle analisi eccezionali, quindi ti faccio i complimenti. Saluto il pubblico che ci ha seguito. Alla prossima.